Buongiorno a tutti, sono Eva May, sono al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino a Firenze. Stasera ci sarà un bellissimo concerto con il maestro metal, l'orchestra e il coro del Teatro del Maggio Musicale con musiche di Mozart e Schubert. Vi aspetto numerosi, tutti quelli che possono entrare, sanificati, per godere di questa bellissima serata. Chi purtroppo non riuscirà ad entrare ci potrà comunque seguire alle 20 stasera sulla piattaforma Idagio. Vi aspetto, venite, venite, venite.